dimmi saresti libero domani sera c'è una serata è un appuntamento romantico tieni ecco l'invito non si sa mai invece di perdere tempo è meglio che vada da rosa stai bene sto cercando una tenuta speciale credo che tu potresti aiutarmi sei nel posto giusto mi piace rammendare tutti i tipi di costumi teatrali e ne ho alcuni in questo momento questa è perfetta è davvero bello che tu avendo stato una tenuta adatta questo vestito ti sta d'incanto tra poco arriveranno i primi invitati ho messo la musica e mi sono diretta all'ingresso ho messo una sedia all'ingresso mi sono seduta la porta del bar è chiusa un cartello con la scritta serata privata oscilla sulla facciata e si sente la musica all'interno ho la lista di tutti gli invitati è il rettore in persona che me l'ha mandata ciao siamo le prime ad arrivare sì io possiamo fare entrare pria non lo saprà nessuno ma quando è che pria e ciani sono amiche sei gelosa certo hai ragione ok chi è che non scaricherebbe noi per ciani scusami sì entrate non siete mica tipe da mettere a questo quadro locale faremo le brave non ho mai partecipato ad una serata con questo tema sono curiosa di vedere come l'ha organizzata oh non ero sola sono stata aiutata da jon e da nina e sei troppo modesta ti conosco so l'impegno che metti nelle cose quando ti stanno a cuore e la tua tenuta ti sta ad incanto prima ha dato un bacio sulla guancia prima di entrare buonasera l'interno pare proprio stupendo signorina ha copiuto il lavoro da titano può essere orgogliosa di se stessa grazie professore è gentile da parte sua però non ancora iniziato la mia tesi per tante sue informazioni e lei poteva cambiarsi senza offesa il gilet da sto bevendo il tè sulla poltrona con le pantofole per evitarlo e i libri ma è naturale bisogna saper riconoscere il lavoro ben fatto per giunta l'ho fatto per una buona causa nessuno di noi desiderà che il dipartimento d'arte scompaglia mi ha detto il nome degli artisti che lo accompagnavano e molti di loro mi hanno fatti complimenti per la tenuta mi sento meglio adesso varie ondate d'invitate si sono succedute molti artisti sono venuti vestiti in sintonia col tema della serata non me l'aspettavo è bello che alcuni siano stati al gioco senza che lo chiedessimo l'interno comincia ad essere pieno di gente ho cancellato quasi tutti i nomi degli invitati della lista restano ancora poche persone ciao castiel sei venuto come vedi non avevo niente da mangiare a casa allora sono venuto a spizzicare nel rinfresco senza dare nell'occhio ma sei un semaforo nell'occhio ci dai abbastanza a prescindere sono sicura che in realtà vai pazzo per questo tipo di serate mondane non dirlo a nessuno altrimenti mi vendico lo sapevo no non avevo niente da fare stasera e non avevo l'ispirazione per comporre allora può stare il tempo qui o da un'altra parte perché è entrato mentre la porta si richiudeva l'odore delle pietanze che proveniva dalla cucina mi ha soletticato deliziosamente il naso non posso crederci hai addirittura indossato una tenuta non credevo che fosse obbligatorio non lo è infatti è solo che ho pensato che sarebbe stato carino da parte mia stare al gioco visto che sono io che mi sono occupata dell'organizzazione capisco che tu abbia voluto farti notare molto sottile dire che non è una serata in costume ed essere la sola vestita così così tutti sono obbligati a notarti no non è per questo che l'ho fatto la madre di Yelin è arrivata alle sue spalle accompagnata da una decina di persone buonasera mi hanno detto che Yelin ha avuto l'idea della serata anni venti è un'ottima cosa che voi abbiate accettato la sua proposta tutti abbiamo un debole per gli anni ruggenti ovviamente ho guardato Yelin che improvvisamente fissava le sue scarpe non è neanche nostra è di ciani sta idea ci stiamo appropriando di idee altrui a davvero a proposito Yelin mi chiedevo come ti è venuta questa idea beh ecco a forza di farti una testa così con la storia dell'arte fin da piccola immagino che hai finito per impegnarti in quello che ti dicevo brava Yelin no ma è uno scherzo bene andiamo a vedere dentro si direbbe che per quanto riguarda decorazione non avete lesinato in realtà un sacco però abbiamo avuto culo Yelin ha seguito sua madre senza avere il coraggio di guardarmi sappiamo benissimo tutte e due che ha mentito si anche tu hai mentito tra parentesi tutti sta mentendo l'idea è dici anni dell'unica che non ho ancora detto beo e la cosa non finisce qui le mie unghie mi stanno penetrando nel palmo della mano rilassati Erkel buonasera va tutto bene sì grazie sei guardato intorno prima di rispondermi farò finta di crederti le solite seccature che bisogna risolvere spero non sia legata la serata perché sembra davvero magnifica anche solo vista dall'esterno non ero sola senza l'aiuto di Yelin il risultato non sarebbe stato così perfetto super modesta bene vado subito a vedere dentro a dopo sono arrivati altri studenti del mio indirizzo poi Melody credo che siano tutti dentro ho cancellato tutti i nomi della lista posso lasciare il mio posto e unirmi alla serata all'interno c'è un sacco di gente sono costretta a zigzagare tra gli invitati per farmi strada Clementina è dietro il banco con un sorriso che va da un orecchio all'altro dopo aver richiamato l'attenzione sbattendo un cucchiaino contro il suo bicchiere di champagne il rettore ha pronunciato un discorso di benvenuto per un attimo pensato che lo stessimo facendo lui ha detto mio dio ma questa che dice è venuto il sangue freddo io ho pensato che noi avessimo sbattuto il cucchiaino su Clementina sullo champagne di Clementina oddio alla fine del discorso c'è stato un applauso generale credo di aver fatto tutto quello che dovevo fare adesso finalmente posso godermi la serata ho pensato che ci sbende adesso me ne vado ti stai annoiando no ho la faccia di qualcuno che si annoia sei tu castel che sembri che ti stai annoiando parecchio costantemente anche perché ormai il tuo sprite base è che non sorridi continua ad andare avanti indietro si direbbe che stai cercando qualcuno controllo solo che vada tutto bene castel sei paranoico cosa vuoi che discorsi sono che non sapevo come attaccare pezza quindi è partito così secondo me una vera organizzatrice di serate magari dovremmo assumerti per i concerti ve la cavate benissimo senza di me anzi è meglio grazie cerchiamo di farlo una coppia di artisti che si dimenano al ritmo della musica ci ha dato una spinta non credevo che saresti venuto vista la reazione che hai avuto quando te l'ho proposto è vero che sul momento non mi hai fatto sognare con questa storia ma ho fatto bene anche solo per vederti con una tenuta del genere non mi era mai capitato prima guarda se non avessimo sto cavolo in testa direi che ci trova a tarenti però so che abbiamo il cavolo in testa quindi sì però devo dire che sto cavolo in testa è stranamente abbinato bene alla tenuta più di quel che l'altro cappello certo sono ridicola è carino mi fa pensare alle feste delle medie con i costumi la musica e le limonate mancano solo le attività lo stand delle crepe e lo spettacolo di fine anno già esagero un po ad una festa delle medie mi sarei annoiato molto meno cercavo le parole quando ambra ha posato una mano sulla spalla di castiel il mio sguardo è rimasto fissato sulla sua mano mentre lei salutava castiel come stai bene sei riuscita ad entrare è la proprietaria che mi ha aperto sono venuta una volta qui a bere un caffè e da allora mi sta proprio addosso ha insistito in modo pesante per farmi venire non mi sorprende me ne ha parlato e clemente diciamo che ha delle armi in suo possesso ma letteralmente armi però sapevo che vi avrei visti questa sera allora mi sono detta che mi avrebbe fatto bene uscire un po ne avevo bisogno dopo una giornata come questa hai fatto bene a venire così ti distrai un po sì lo spero bene muoio di sete vieni castiel mi hanno salutata dicendomi che ci saremmo sicuramente rivisti più tardi quindi sono diretti al buffa cassi e le ambra ovvio devo smetterla di supirmi ogni volta però mi chiedo se continua ad avere un debole per lui o se anche questo è scomparso dopo il liceo tutto bene ragazze la serata è fantastica er che hai fatto un lavoro magnifico sono davvero impressionata credo avessi solo una settimana per preparare il tutto a dire vero un po meno di una settimana ma è stato divertente farlo e poi ribadisco io non ho fatto niente wow e trovo che hai fatto bene a stare al gioco indossando questa tenuta puoi essere orgogliosa di te stessa grazie pria vado a prenderci qualcosa da mangiare sto morendo di fame chani si è diretta al buffet mentre io e pria ci divertivamo ad osservare il modo in cui il professor lebard si agitava mi fa piacere che siete diventate amiche tu e chani è da tanto dalla serata in cui abbiamo studiato insieme è lì che abbiamo iniziato a parlarci davvero da allora ci capita di andare a bere qualcosa insieme ogni tanto è bello perché noi con pria e chani non ci usciamo praticamente mai ha davvero non lo sapevo prima mi fa piacere è una ragazza davvero adorabile sì è vero è adorabile è bello che siate venute vedere delle facce amiche è un ottimo antistress avevo paura che sarebbe stato un fiasco non c'è l'ombra di un fiasco sei stata grande ma dovresti approfittarne per parlare un po con gli artisti presenti no preferirei passare la serata a parlare con te ah sono serio sì stiamo bene no sono lusingata ma vai dovresti incontrarli e parlare con loro noi abbiamo un sacco di occasioni di passare una serata insieme a parlare tutte e due invece queste persone non ti capita tutti i giorni di incontrarle guarda sembra che incontro più spesso loro che voi chani è tornata con un piatto pieno di stuzzichini ok seguo il tuo consiglio pria a dopo ragazze ho parlato con vari artisti in particolare uno con cui ho avuto una lunga discussione sull'arte dei videogiochi è piacevole incontrare persone con una mentalità aperta che non si limitano esclusivamente all'arte classica con alcuni ci siamo scambiati i numeri di telefono e sono persino stata invitata ad una vernissage tu dimmi dove li siamo ah sono appartati dietro al bidone ma io ti credo che sta qua si fa dei trip mentali eh li trovo appartati in un vicolo ma li farei anche io ecco ammettiamolo non ci posso credere salve questa nina è spassosissima hyun mi ha appena raccontato cosa ha chiesto in cambio degli arredi che vi ha prestato hyun si tiene la pancia da ridere hanno un attacco di ridarella già ha un caratterino tutto bene hyun se mi ricordo bene l'ultima volta che hyun e rania si sono visti si limitati a scambiarsi gli occhiati e glaciali eh doveva nascondere la passione esatto benissimo parlavo con il professor zaini non è uno dei miei professori quindi non ci conoscevamo ok vi lascio vado a controllare che i camerieri mi attengano il ritmo e voglio sapere come va a finire hyun come dovrebbe andare a finire non so comunque stanno flortando poderosamente in un vicolo sti due hyun ha fatto un senno come per dire che sarebbe tornato sono sorpresa di vedervi chiacchierare insieme già l'ultima volta che ci siamo visti non è andata molto bene volevo dissipare il malinteso dissipare il malinteso ma che cazzo di paroleosi in ogni caso ho già avuto una discussione con lui a proposito oh davvero mi dispiace di aver si è guardato intorno di averle creato tutti questi problemi non era mia intenzione delle persone parlano vicino a noi ci siamo scambiati uno sguardo e abbiamo capito tutti e due che era meglio cambiare argomento parlate dell'arte che si esprime in questo vicolo attraverso il pattume e il cartello del sushi e pizza il rettore mi ha parlato dell'organizzazione della serata mi ha detto che non si aspettava una cosa così raffinata raffinata è quello che ha detto mo ci proviamo pure il correttore sì e ha ragione è un successo non trova sì ormai sono pronta ad organizzare tutte le serate dei dintorni a tempo di record organizzatrice di eventi deve essere un mestiere divertente essere pagata per fare festa ci metto subito la firma la professoressa paltri gli fa dei cenni con la mano per invitarlo ad unirsi ad un'accesa discussione con due artisti bene sento che il dibattito mi chiama a dopo spero sia più tardi poi vedi più tardi il buffet quasi vuoto e ho visto yun coordinare i camerieri per posizionare i dessert una fontana di cioccolato con dei frutti dei bignelli a crema di diversi colori e un servizio da gelato sono stati posizionati sul tavolo complimenti signorina grazie grazie a lei babbo natale non pensare che non conosca i problemi che hai affrontato so che il tempo a disposizione è stato breve era posto in gioco troppo alta per non pesare sulle spalle ma non è questo il giorno ma ti ho lasciato gestire la cosa ho sentito che eri capace non ho commesso un errore ho ho non è ancora finita la serata e quindi la ringrazio è un complimento che mi tocca profondamente ho ho è vero e i suoi sforzi sono riconosciuti l'atmosfera è leggera i discorsi interessanti e divertenti john e pri ascoltano attentamente un dibattito tra le bar della professoressa paltri cassia le ambra parlano vicino al buffet mi viene voglia di sgattaiolare in cucina per vedere se tutto sta andando bene per yun io direi non vedo la di sgattaiolare in cucina per star lontano da sta gente simpa yun sembra non esserci nessuno dovrà essere se stai cercando il tuo ragazzo cameriere l'ho visto parlare con un professore lì fuori che cosa ci fai qui secondo te non abbiamo parlato da quella vicenda sono venuto a parlarti è così che nomini ciò che è successo quella vicenda parli dell'aggressione di nina e di me che tentavo di capire la verità sì ma vai tranquilla non ci arrivi tu la verità sì 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 sto parlando di questo mi rendo conto di quanto sia stato stupido cercare di tagliare i ponti tu eri preoccupata volevo risolvere il problema da solo e credo aver rafforzato la tua angoscia piuttosto che rassicurarti non sarei dovuto andare via sì non saresti dovuto andare via e lasciarmi nella confusione più totale sapendo che stavo male dopo ciò che era successo hai deciso di voltarmi le spalle in un momento in cui avevo bisogno di conforto la dice lunga su di te sono delusa lo so se non avessi dei rimorsi non sarei qui davanti a te hai scelto la serata migliore nata spiegami perché sei qui hai cinque minuti prima che qualcuno ci veda ci sbatta fuori non avrai una seconda possibilità tutta questa aria che ci diamo di importanza o dolce tata vola basso se non ti ho più detto niente è perché la situazione era pericolosa il cliché del bad boy che mi protegge dai pericoli è uno scherzo sempre la stessa storia nataniel non è un cavolo di cliché erkel più o meno parliamo ho provato a parlarti sinceramente ascoltami ho pensato di proteggerti ma non è successo è troppo tardi non sarei mai dovuto diventare tuo amico perché tu questa relazione la chiami amicizia nataniel fammi capire siamo di più che amici non puoi frenzonarmi così no so che è molto di più il mio cuore si è fermato per un attimo comunque tutto questo è per dirti che non sopporto l'idea che possono far del male ai miei cari non avrei dovuto allontanarmi da te sarei dovuto essere lì tutto ciò è molto bello nat ma ti rendi conto di quanto il tuo discorso sia scollegato non ha senso prima non vuoi parlare poi parli ma senza andare a fondo che cosa succede alla fine perché sei così cosa stai combinando produco spezie è una drogheria nel significato sbagliato del termine io tutto bene ambra mi ha detto che che cosa ci fa lui qui herkel si nessun pro ambra perché tu esci con mia sorella non è abbastanza fan da portarti a letto ogni sera allontanati da lei oh ma che domaroni voi due vostro cos'è testosterone a palla ma ve lo abbasso io piuttosto sei tu che hai questo tipo di reputazione no herkel non ha intenzione di andarsene e ti conosco non la lascio sola con te tu basta state zitti sono abbastanza grande per sapere che cosa fare e sono stanca delle vostre litigate costanti e insensate pensavo che non sarebbe più successo dopo il liceo la fine del liceo è stata molto tempo fa non sei stanca di tirarlo fuori ogni volta non ti abbiamo aspettato per avere una vita lo so l'ho capito me l'avete fatto perfettamente capire tutti e due da quando sono tornata ora cerco di riprendere in mano la situazione e smetti la casta di parlarmi così non sono una ragazzina di 15 anni ad uno dei tuoi concerti e tu nataniel vieni a parlarmi quando avrai davvero qualcosa da dire sono stanca di voi due questa sera è una serata importante per me e per i miei studi non vi permetterò di rovinarla quindi andate a discutere da un'altra parte oh la uscita di scena proprio devo dire questa scena qua merica questa scena è veramente bella ho sbattuto la porta dietro di me e molte persone si sono girate e wow penso di non essere mai stata così diretta con quei due sono quasi sicura che non siano pronti a riparlarmi ma sono stanca di giocare a questi giochi idioti siamo adulti per la miseria stai bene sì ho appena mandato a cagare i due ragazzi più fighi probabilmente della città ma sto bene tutto bene io vieni andiamo in mezzo alla folla non voglio incrociarli mentre escono dalla cucina preferirei evitare tu non sei compria è rientrata vado via anch'io mi sa comincia a farsi tardi e non mi sento molto a mio agio davvero non mi lascerai sola mentre gli altri hanno ripreso a ballare scusami ho voglia di rientrare ti cerco per salutarti ok sicura che vada tutto bene non vuoi aspettare un po potrei riaccompagnarti no rientro a sola grazie sei molto gentile buonanotte cianni non è allegra come il suo solito si dirige verso l'uscita pressando il passo io ho passato la serata a parlare con la professoressa paltri il direttore e con due artisti di un argomento d'arte moderna in maniera appassionata verso le due del mattino la fine del gale è stata annunciata dal direttore che ha calorosamente ringraziato tutti per essere stati presenti non ho più incrociato cassile o nataniel saranno andati via ora che ci penso non ho incontrato nemmeno un signor zaidi l'unico professore che non è rimasto fino a fine serata e dov'è yun solo i camerieri assunti per l'occasione sembrano essere presenti ah qua vedi iniziano questi mettiamo i fili in puntini ammetto che hai fatto un ottimo lavoro grazie clementina stasera è una seratona abbiamo mandato affonculo casele nataniel clementina ci fa i complimenti ti aggiungerò un bonus al tuo stipendio ma nell'attesa ecco un piccolo bonus supplementare grazie per il tuo lavoro perfetto grazie ancora ci sei dato veramente dei soldi sì 50 gold sì occhio riconosco che ho organizzato tutto bene ma non restare stupito davanti a me dai dai sì mi scusi ha per caso visto yun sì sì era portato dietro bidone nel vicoletto insieme a un tizio mi ha fatto stessa domanda mezz'ora fa è rientrato a casa ma scusa ma yun dove andarsene c'è insieme a noi anche lui organizzava la serata e si vede che lui se n'è andato prima ah ok farò la stessa cosa ho preso le mie cose sono riuscita a tirarmi fuori dalle ultime conversazioni dibattiti e mi sono diretta verso l'uscita sono sfinita ho riconosciuto degli studenti della mia classe che discutevano gioiosamente davanti al cancello guarda yun sta salendo in macchina di sua madre con una grande valigia sembrerebbe quasi che non sarà presente questo weekend meglio grazie a tutti grazie a tutti